Salve a tutti, sono Raffaele Colaizzo, siamo al quarto incontro del nostro modulo sul monitoraggio di programmi e progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo PLUS. In questo incontro ci occupiamo di basi dati e sistemi informativi per il monitoraggio degli interventi del Fondo Sociale Europeo PLUS. Ricordate come negli incontri precedenti abbiamo parlato di definizioni a regole essenziali del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, abbiamo esaminato dati, indicatori e target specifici del monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'FS PLUS, abbiamo visto quando servono i dati del monitoraggio, alcuni passaggi essenziali in cui servono i dati del monitoraggio nell'ambito del ciclo di vita dei programmi 2021-2027 e adesso, come vi dicevo, parliamo dei sistemi informativi che devono sostenere i flussi di informazione fra i diversi attori del sistema. Quali sono allora i sistemi in campo? Cerchiamo un po' di dare una rappresentazione complessiva. Al centro della slide vedete il sistema nazionale, il sistema di monitoraggio nazionale che viene gestito dall'Igrue, l'Igrue è l'Ispettorato generale per le relazioni con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Igrue ha, fra l'altro, un ruolo molto importante per quanto riguarda il monitoraggio nazionale, cioè l'aggregazione di tutti i dati che provengono dalle varie amministrazioni titolari dei programmi per dare una rappresentazione complessiva dell'avanzamento del quadro dell'utilizzazione dei fondi del nostro Paese. Ecco, in particolare il monitoraggio della coesione viene effettuato attraverso il sistema nazionale di monitoraggio gestito dall'Igrue. Ecco, al centro del sistema nazionale di monitoraggio c'è una banca dati che viene alimentata con dati dei singoli progetti, in particolare dati relativi all'esecuzione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti, che viene alimentata dai sistemi informativi locali delle amministrazioni titolari dei programmi della coesione. Ovviamente la trasmissione dei dati dal livello locale al livello nazionale avviene attraverso un protocollo comune, adesso gli daremo anche uno sguardo. Quindi, insomma, al centro del sistema di monitoraggio nazionale c'è l'Igrue. Ecco, da dove prende i dati l'Igrue? Li prende dai sistemi locali. Ogni amministrazione titolare di programma ha un sistema informativo specifico. In particolare, ovviamente i sistemi informativi locali cambiano tra le varie amministrazioni, hanno anche molti punti in comune dal punto di vista metodologico, in particolare la provincia autonoma di Bolzano utilizza un sistema locale che si chiama Coemon che appunto alimenta il sistema di monitoraggio nazionale e che ha importanti funzioni di gestione dei programmi finanziati dai fondi. Tutti i sistemi informativi locali, accanto alla funzione di monitoraggio in senso stretto, hanno una importante funzione gestionale dei programmi e in particolare facilitano le comunicazioni fra i vari attori, per esempio fra i beneficiari e le strutture dell'amministrazione deputate all'attuazione, facilitano le comunicazioni e le informazioni proprio per facilitare, per digitalizzare il più possibile l'esecuzione del programma. Adesso poi progressivamente daremo un po' uno sguardo a questi vari sistemi informativi. Ecco, le amministrazioni titolari dei programmi, oltre ad alimentare il sistema informativo nazionale, hanno anche il compito di alimentare il sistema della Commissione europea, il sistema informativo della Commissione europea e in particolare questo sistema si chiama SFC, adesso siamo all'FSC 2021, perché siamo in questo periodo di programmazione 21-27, il sistema della Commissione europea, il sistema per lo scambio elettronico dei dati, appunto, è basato sulla completa digitalizzazione dei flussi di informazioni e viene alimentato dalle amministrazioni titolari. Quindi, vedete, il dato raccolto al livello locale viene trasferito al livello nazionale, per aggregarlo al livello nazionale, viene trasferito al livello comunitario, anche in quel caso, per aggregarlo al livello comunitario. Ovviamente, sia il sistema nazionale, sia il sistema comunitario, poi restituiscono questa informazione aggregata e la mettono a disposizione per ragioni di valutazione, per ragioni di trasparenza, in generale per ragioni di sorveglianza. Ecco, tra i sistemi che vengono a loro volta alimentati dal sistema di monitoraggio nazionale, ma ce n'è uno particolarmente importante, che è open coesione. Ne parleremo fra breve. Open coesione svolge una funzione informativa molto importante, anche a fini di trasparenza, nel senso che rende disponibili le informazioni su come i fondi della coesione vengono utilizzati nel nostro paese. E allora proviamo un po' a dare uno sguardo a ciascuno di questi grandi sistemi informativi. Il primo è Coemon, il sistema locale, ripeto, Coemon è il sistema locale della provincia autonoma di Bolzano, naturalmente in ciascuna regione provincia autonoma noi abbiamo uno specifico sistema informativo che naturalmente può essere differente, insomma, a seconda dei casi, può avere una struttura diversa, però poi, insomma, in particolare nella comunicazione con il livello nazionale, diciamo, risponde a determinati standard. Ecco, ripeto questo aspetto importante, mentre il sistema nazionale di monitoraggio è appunto un sistema di monitoraggio, cioè raccoglie dati sui programmi, li aggrega e li rende disponibili, i sistemi informativi locali hanno tutti importanti funzioni di gestione, cioè digitalizzano sostanzialmente l'utile, l'esecuzione dei programmi. In particolare, Coemon è un sistema unificato e trasversale rispetto a fondi e programmi, garantisce la semplificazione dei processi a favore di utenti e amministrazione e quindi permette un archivio unico dei soggetti beneficiari che costituisce il punto di raccolto delle informazioni validate relative ai beneficiari stessi, è un unico punto di accesso per le domande di sostegno e di pagamento, quindi, diciamo, ciascun beneficiario, qualsiasi sia la misura, fa riferimento a Coemon per caricare le sue domande di sostegno e per caricare le informazioni sui pagamenti. Informatizza, digitalizza l'iter amministrativo, questo contribuisce alla dematerializzazione dei documenti, allo scambio di comunicazioni tra l'ufficio FSI e beneficiari, permette una funzione di trasparenza amministrativa nei confronti di cittadinanza e imprese e garantisce efficienza nella valutazione, nella rendicontazione dei progetti e nel monitoraggio grazie alla possibilità di gestire le informazioni in sistema interamente digitale e unificato. Su Coemon vengono caricati i dati e, in generale, sui sistemi informativi locali vengono caricati dati fisici, finanziari e procedurali che vengono generati sia dall'autorità di gestione e sia dai beneficiari. Ad esempio, l'autorità di gestione carica i dati relativi agli avvisi oppure ai progetti approvati, alle convenzioni di finanziamento, utilizza inoltre Coemon l'autorità di gestione per notifiche ai beneficiari, le comunicazioni sono gestite, su Coemon e questo permette ovviamente di semplificare e unificare i procedimenti amministrativi e i beneficiari caricano informazioni molto importanti per quanto riguarda, ad esempio, nell'ambito del fondo sociale, dati sui progetti come sede dei corsi, titolari dell'operazione, tempi di attuazione a livello delle attività, i dati sui partecipanti, quindi requisiti di accesso, iscrizioni anagrafiche, registri delle presenze e i dati naturalmente sulle spese e in generale sulle variabili finanziarie. Ad esempio, se noi interroghiamo il sistema locale, questa slide a questo punto dovrebbe essere facilmente comprensibile alla luce degli argomenti che abbiamo diciamo discusso negli incontri precedenti, ecco, l'interrogazione del sistema ci permette di avere dei dati sull'esecuzione finanziaria, fisica e procedurale dei singoli progetti, ad esempio su un singolo progetto noi tra l'altro, questi sono esempi anche semplificati ma in realtà lo spettro dell'informazione è molto più ampio, però insomma in un singolo progetto noi interrogando il sistema locale sappiamo qual è il costo pubblico, gli impegni, i pagamenti, la data inizio, la data di fine prevista ed effettiva, quindi esecuzione finanziaria, esecuzione procedurale e output e risultati, output previsto, output effettivo, risultato previsto, risultato effettivo, questi sono tutti i termini che a questo punto sicuramente ci saranno chiari. Inoltre interrogare il sistema locale ci permette, appunto aggregando i dati dei progetti, di conoscere lo stato di esecuzione, le azioni, gli obiettivi specifici, priorità del programma nel suo complesso, ad esempio nella relazione, ricordate che abbiamo già mostrato dei dati sulla relazione di attuazione 2022 del programma FSE e della pronuncia autonoma di Bolzano, ad esempio noi troviamo sull'asse 3 dei dati di questo tipo, la dotazione del programma, la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari dell'autorità di gestione, la quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari, il numero di operazioni selezionate. Ricordate come dal punto di vista della comunicazione fra amministrazione titolare del programma e Commissione europea, il dato sulla spesa nell'ambito di monitoraggio finanziario è un dato fondamentale. Anche gli altri sono importanti nel monitoraggio finanziario, ma quello sulla spesa è fondamentale, in particolare per dimostrare il rispetto delle scadenze sulla liquidazione, diciamo, sulla esecuzione finanziaria delle varie annualità del programma. Troviamo per aggregazione anche dei dati che possono riguardare il monitoraggio fisico, per esempio le persone inattive trattate e qui ho il valore obiettivo, un valore realizzato e un tasso di conseguimento. Ecco, abbastanza frequentemente può anche succedere che i valori realizzati poi, soprattutto nell'esecuzione fisica, superino i valori programmati. Ecco naturalmente le informazioni in generale sull'esecuzione degli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus e anche per approfondire il funzionamento di Coimo, naturalmente noi lo troviamo in un manuale apposito, insomma tutte le amministrazioni, i titolari, i programmi ovviamente si dotano di manuali per semplificare l'informazione per i beneficiari, per semplificarla, per orientare i beneficiari nelle procedure di attuazione di monitoraggio. Ecco, abbiamo detto il sistema locale trasmette i dati al sistema nazionale di monitoraggio che è basato su una banca dati unitaria. Qual è la ragione? La ragione è quella di dare una rappresentazione complessiva dello stato di esecuzione dei programmi del nostro paese. Ovviamente questo viene fatto attraverso un sistema elettronico per lo scambio di dati. Lo stesso regolamento stabilisce che tutti gli scambi di informazione tra beneficiari e autorità del programma sono effettuate mediante sistemi elettronici, da anche dei requisiti di questi sistemi elettronici, per esempio in termini di sicurezza, integrità, riservatezza dei dati, uso di funzioni e interfaccia logiche semplici e intuitive e inoltre ancora il regolamento identifica dei campi di informazione che necessariamente le autorità di gestione devono mantenere. Questo riguarda il sistema informativo locale, cioè nel sistema informativo locale, noi dobbiamo ovviamente trovare informazioni relative ai campi identificati nel regolamento e questi campi poi devono essere oggetto di comunicazione anche dal sistema locale al sistema nazionale di monitoraggio. Ripeto, i sistemi informativi possono anche essere molto diversi l'uno dall'altro, con funzioni per esempio gestionali più o meno accentuate, ecco però nella trasmissione dei dati dal sistema informativo locale al sistema nazionale di monitoraggio si rispetta un protocollo, in particolare le informazioni devono essere strutturate all'interno delle sezioni che vedete qui elencate. Procedure di attivazione, anagrafica del progetto e classificazioni economiche e finanziarie, indicatori di risultato di output con i relativi target, i soggetti collegati, chi è il programmatore, chi è il beneficiario, chi è l'attuatore di una singola operazione, le strutture finanziarie, per quanto riguarda impegni, pagamenti, spesa certificata, eventuali economie, ad esempio è possibile che un progetto abbia una dotazione finanziaria che poi si riduce a seguito dell'economia in fase di affidamento, per esempio nel campo dei lavori pubblici. Informazioni sulle procedure di aggiudicazione, iter di progetto, avanzamento stato di attuazione per step procedurali, tipico del monitoraggio procedurale, trasferimenti e strumenti finanziari. L'informazione viene tutta strutturata all'interno di queste sezioni e viene trasferita elettronicamente dai sistemi informativi locali al sistema nazionale di monitoraggio. Il sistema nazionale di monitoraggio elabora queste indicazioni e ne fa oggetto di rendicontazioni periodiche. L'IGRUE svolge anche delle altre funzioni che sono collegate a questo, ma sono anche distinte, in particolare nel campo dei pagamenti. L'IGRUE è l'organismo che riceve i pagamenti dalla Commissione Europea e che poi li riversa alle autorità titolari dei programmi insieme alla quota di cofinanziamento nazionale. Quindi ha anche questa funzione molto importante. È un po' centrale nell'attuazione delle politiche di coesione del nostro Paese, dal punto di vista del monitoraggio, dal punto di vista dei flussi finanziari e anche dal punto di vista del coordinamento delle attività di audit delle varie amministrazioni. Accanto al sistema nazionale di monitoraggio abbiamo il sistema della Commissione Europea, SFC 2021. SFC è il sistema di scambio elettronico dei dati per la gestione congiunta dei fondi tra l'amministrazione, i titolari dei programmi dei vari Stati membri, le autorità di coordinamento nazionali e le direzioni generali della Commissione Europea che si occupano dei fondi. Insomma, a livello dei programmi sono coinvolte nel caricamento dei dati, autorità di gestione, autorità di audit. Ecco le sezioni riguardano documenti di programma, dati di monitoraggio, informazioni sull'esecuzione, esiti degli audit e così via. Ecco vedete qui un po' le sezioni di informazione che va caricata sul sistema SFC e vedete le sezioni riguardano la pianificazione strategica, la programmazione, il monitoraggio, l'esecuzione, gli audit e la valutazione e quindi un altro flusso di informazioni che dai sistemi informativi locali fluisce all'esterno e in particolare verso la Commissione Europea. Come utilizza la Commissione Europea questi dati? Li utilizza ovviamente per fare dei quadri aggregati di sintesi e li utilizza anche per effettuare la sua sorveglianza sull'andamento dei programmi. Ecco, una base di dati molto importante che viene alimentata dal sistema nazionale di monitoraggio è quella di open coesione. Qui mi trattengo rapidamente perché è ovviamente una banca dati del tutto accessibile ed esorge anche, oltre alla funzione informativa, una fondamentale funzione di trasparenza, cioè ci dice come sono utilizzati i fondi della coesione. Ecco, è una base di dati molto ampia e quindi si potrebbero dedicare, insomma, un po' a presentarla, si potrebbero dedicare molte ore. La cosa migliore però è utilizzarla. Però, insomma, ecco, su open coesione io tra le molte altre cose ho delle informazioni che riguardano i programmi, i singoli programmi, in termini, come vedete, di costo pubblico, pagamenti, suddivisione del finanziamento, stato di esecuzione e poi ho anche delle informazioni che riguardano i singoli progetti. Ad esempio ho delle informazioni che riguardano l'anagrafica, la localizzazione, l'avanzamento relativa ai singoli progetti e che si possono anche scaricare, insomma, in formato Excel sostanzialmente, utilizzando molti filtri che riguardano, ad esempio, oltre al territorio, chiaramente il ciclo di programmazione, la natura dell'investimento, il tema, la fonte, lo stato del progetto e così via. Insomma, in questo screenshot voi vedete degli progetti, insomma, vedete l'inizio della lista di progetti finanziati dal programma FSE della provincia autonoma di Bolzano, per ciascun progetto io ho numerosissime informazioni di cui ho una lista sintetica, ma soprattutto, insomma, ho un elenco che posso scaricare in formato Excel. Ecco, l'ultimo passaggio, insomma, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è quella del monitoraggio civico. Open Coesione è associata ad un'attività di monitoraggio civico che si chiama Moniton. Cos'è il monitoraggio civico? Una forma di cittadinanza attiva che impegna organizzazioni, reti e gruppi informali e la società civile, operatori dei media, scuole cittadine a sorveglianza e gli indicatori finanziati dai fondi per la coesione in generale delle politiche pubbliche. E quindi è un'attività molto importante per mettere le politiche di coesione un po' al centro dell'attenzione dei cittadini, che sono i principali fruitori di queste politiche. Ripeto, le informazioni sul monitoraggio civico, i documenti, i rapporti elaborati da gruppi di cittadini attivi sono su questo link di Moniton che qui vi ho segnalato. Con questo abbiamo concluso il nostro modulo sul monitoraggio dei progetti dell'FS Plus e e quindi vi saluto e vi auguro un buon lavoro.